Te l'hanno regalato sugli Artrat. Sì, me lo hanno regalato loro, però a dire il vero non è che mi piaccia granché. Ma il mio era ridotto malissimo, quindi... Conoscendoti scommetto che non sei tornato a mani vuote e loro non sono dotati di una grande forza, ma sanno usare molte tecniche strane. Te ne hanno insegnata qualcuna? Hai indovinato, bravo! Finalmente è chiaro, ora ho capito perché te ne sei stato via un anno intero. Quali tecniche hai imparato? Faccele vedere, dai! Beh, a dire il vero ne ho imparata soltanto una e sapeste quanta fatica. Mi ci è voluto un anno intero per usarla in modo corretto. Comunque vi informo che sono capace di teletrasportarmi. Teletrasportarmi? Stai dicendo sul serio? Dai, facci vedere come si fa. Vuoi vedere? Eh, va bene. Per prima cosa devo pensare a qualcuno e cercare di percepire la sua aura, il che significa che non posso trasportarmi dove non c'è almeno una persona che conosco. mi sono spiegato. Vediamo un po' dove posso andare. Ho trovato! Salve! Ciao! A presto! Cosa? È sconfato! Ma che teletrasportato avrai usato di sicuro la super velocità? Diadam! Li riconoscete questi? Cosa? È impossibile! Quelli sono gli occhiali di genio! Hai ragione, è vero! Ma dove sono? Non capisco! Non riesco a trovare i miei occhiali! Ma come... Da qui alla casa di genio ci sono migliaia di chilometri! È... È sensazionale! Adesso mi credete, vero? Ehi, Krillie! Ci pensi tu a restituirli a genio più tardi? Certamente, dai qua! Ma... Ma...